ciao a tutti amici di esperienza by siamo in compagnia di xiaomi mi 4 per un video con le prime impressioni allora intanto per cominciare vi dico che il led di notifica c'è ed è qua sotto sotto il tasto home non ve l'avevo mostrato nell'unboxing poi la cornice non è in alluminio come ho detto nell'unboxing ma è in acciaio inox quindi ancora ancora meglio molto più solida effettivamente in modo da un senso di solidità notevole veramente ben ben fatta qua dietro è policarbonato si può rimuovere fra un po scendere le cover in teoria in legno in bambù in pelle e quant'altro quindi molto bella questa cosa pensata la xiaomi e basta prendiamo un po di lo stesso sono già due tre giorni prima però di fare la recensione per fare un video con le prime impressioni provarlo poi ancora qualche giorno alla bolla miui è sempre quella devo dire che veramente fluidissima ho deciso anche di lasciare in inglese perché comunque non voglio mettere su altre rom voglio lasciare quella stock quindi vediamo per vedere un po i prossimi aggiornamenti cosa cosa cambierà comunque la fluidità veramente notevole sempre molto attivo e fluido possibilità di cambiare l'effetto gli sfondi widget e quant'altro non abbiamo l'app drawer ovviamente e mi scuso per la voce ma sono veramente molto raffreddato comunque andiamo avanti parliamo del display allora display è un 5 pollici full hd ed è veramente un display bellissimo uno dei migliori che aveva visto finora questo è proprio ve lo dico con sincerità le condici sono veramente ridotte non sono magari come quello del g2 ma ci si avvicina veramente molto e anche sopra e sotto non ci sono delle conici così grandi forse sotto si può trattare ancora un 2 mm però nel complesso già un telefono molto molto maneggevole per essere un 5 pollici bene quindi display assolutamente premiato fotocamera 13 megapixel diciamo che al momento devo ancora testarla benissimo però non non mi sta convincendo al 100 per cento diciamo che l'autofocus non è proprio preciso quindi boh adesso scaricherò altre fotocamere vedrò se magari un problema della fotocamera del software eccetera però nel complesso secondo me può fare di meglio comunque non è che sia una brutta fotocamera non è mi aspettavo di meglio però vi dico voglio ancora provarlo qualche giorno per vedere se effettivamente è un'impressione mia che mi sono fatto sbagliato sbagliato in questi giorni o se effettivamente non è non è al top ma vedremo poi cos'altro possiamo dire la batteria ok anche la batteria 3080 miliampere qua ho fatto solo tre cicli di ricarica per ora quindi non voglio sbilanciarmi diciamo che con uso intenso per ora arrivo a cena ma anche lì voglio caricarla ancora almeno un 5 o 6 volte per dare un giudizio un po' più obiettivo e basta facendo un po' i benchmark alla sua antutu abbiamo fatto un punteggio 36500 quindi un signor punteggio magari non è più alto ma cambia dal più alto magari ci sono 2000 punti di differenza quindi pochissimo vi faccio andare anche magari qua davanti al volo adesso magari chiediamo un po' l'applicazione tenendo premuto tasto home abbiamo tre gigabyte di ram all'avvio ne abbiamo liberi circa due e faccio vedere il benchmark allora giusto vedere anche punteggio in tutto che non la faccio da da parecchio tempo tra l'altro in tutto ci mette pochissimo su questi nuovi telefoni a finire una volta mi ricordo sui primi telefoni quelli con single core eccetera ci metteva veramente minuti adesso ci mette a meno di un minuto siamo sempre a 60 frame comunque quindi ecco questa che l'animazione un po' più difficile siamo a 40 45 frame punteggio abbiamo fatto 23.000 e 600 che adesso è il buono mi ricordo ben sono i puntaggi degli altri mi sembra uno dei puntaggi più alti in assoluto anche qui insomma anche che dal punto di vista bench ma che è decisamente molto molto prestante ho provato real racing come al solito vi farò ordinare le accensioni nessun tipo di problema anche beach bug ovviamente come al solito faccio delle cartelle con tutte le applicazioni che uso un po' di meno chiamate le metto qua in fondo perché comunque non voglio metterci un launcher in quanto mi piace molto la mule però mi piace comunque avere una disposizione un po' più semplice sulla home quindi preferisco fare delle cartelle dove raggruppo le applicazioni un po' meno usate perfetto quindi queste sono le prime impressioni la quality time capsule mi sembra molto buona molto buona anche l'alto parante di sistema qua in basso ecco qua e mi sembra molto potente anche di buona qualità e qui adesso vi vedete un po' un'anticipazione dell'accensione che sarà molto buona perché il telefono veramente mi sta piacendo un sacco un touch in film veramente incredibile veramente bellissima tenere in mano grazie a questa connice che assomiglia molto a quella del 5s però ha un qualcosa in più ancora più di un senso ancora più di solidità sarà fatto che magari è leggermente più grossa e basta anche il proprio disegno della core posteriore mi piace parecchio anche la fotocamera centrale la gommi questa texture che ecco adesso si diceva dire che assimile quella del s4 ma contemporaneamente diversa perché in realtà è un po' di carbonato con la texture sotto uno strato trasparente quindi praticamente abbiamo la texture e poi sopra un strato di come di non saprei dire di plexiglass possiamo dire oppure di plastica molto rigida trasparente quindi anche se si va a graffiare non si graffia la texture come su s4 per interessi ma si graffia semplicemente la plastica lucida trasparente quindi anche i graffi si vedono veramente poco unica cosa attiva parecchio a polvere questa cover quindi questo è l'unico piccolo punto a sfavore per il resto un telefono che per il momento mi piace veramente molto a qualche piccolo bug quella per esempio come se io quando vado su chrome e voglio andare su una pagina me l'apre su me l'apre sul browser stock e questa cosa che non capisco il perché ho provato a togliere anche non ho trovato l'opzione per togliere l'app predefinita non c'è anche su browser stock oppure per mettere predefinito chrome non l'ho trovato quindi vabbè ma piccoli bug del genere che vedo insomma di correggere mettendo una rom oppure con i prossimi aggiornamenti quindi per questo video è tutto ci vediamo nei prossimi video un saluto da Lorenzo per esperienzano bye ciao